ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò dove trovare il trofeo di wolverine per fare la sfida e sbloccare anche lo zainetto di questa testa mozzata robot si trova moli molesti qui quindi non potete sbagliarvi anche perché la sfida stessa dirvi moli molesti quindi già vi dà un grosso aiuto ma invece di perdere tempo a cercare qui a moli molesti dove si trova la testa ve la mostro io si trova qui in questo edificio lontano dal diciamo da moli molesti dovete raggiungere questo edificio ed entrare al suo interno qui aprite questa porta rompete la cassa e voilà ecco a voi il trofeo di wolverine